Bella vecchi Dramani, bentornati qui sul canale di Dramanans E siamo tornati con la squadra dell'anno E non sono i Toti, ma il Diarrea Team Il Diarrea Team è che ogni partita convince sempre di più Ogni partita arranca per arrivare a segnare Perché veramente c'è una cosa assurda, impossibile Ragazzi, il Diarrea Team la volta scorsa ci è andato vicino Però ci è andato molto vicino Ci è andato molto vicino Centimetro per centimetro conquisteremo una vittoria E con Lo Sano Con Diarrea Suba Unculo, Diarrea Angulo Diarrea, Kaka Diarrea, Kagawa, Lukaku e Okaka Questo Diarrea Team è forte E vincerà E Asimi Rolling Forse si può fare Che figo Argento Nero Cioè Argento... Non so Comunque la squadra Eccoci, eccoci Noi abbiamo ancora più schifoso Guarda il portiere Arizzala Arizzala Piccala Arizzala Piccala Sfia Ah mamma mia, questo deve essere un coso alto Tant'altro Cioè un evento sull'uso Sfia Ma mamma mia, cazzo Ma come ha fatto? E' un po' di Kung Fu Ha pure preso Perché a lui? Uno, due, è fantastico Perfetto Si sono intesi alla perfezione Ma perché a Arizzala Arizzala ancora? Andalo Oh Gio, sei andato Oddio, oddio caca Oddio mi fai venire così però Oh cani, porpe Ma c'ha da che è un porto? Cioè manca Iscita? No Calla No, no, no Prima del primo tempo No, no, no Sì Sì Vaffanculo E' una uno Vaffanculo Andami No, sopra Tui, dalla Ma dai così BOOM MAMMA BIA BOOM ROMERU OH CACACIUCA COSTO CASO Perché non lo sapeva Che la mia segna Mamma mia Che fomento Ma che co ha fatto? Porco due Stiamo vincendo col Diaria Team Incredibile Guardalo Spam Perché c'ho avuto culo Che mi ha dato l'impasto Intanto se aveva la posura Aveva lui No, no, no 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 Eh, va Da una palla perza tua, eh Ma vaffanculo, va E dai Fai grosso, c'è sta un buco immenso Quanto il buco del culo di angulo C'è Mamma mia De lo sanno Fallo, fallo Fallo E' qua c'è l'opportunità E' qua c'è l'opportunità E' qua c'è l'opportunità E' qua c'è l'opportunità L'opportunità Ma mia che c'è il cazzolidro di merda Che fa Tra l'altra Però Pettate questo però Dai, bollso Oh, via Mamma mia Che c'è l'opportunità Mamma mia Comunque no Sta so na Non sa so nice Non sa so proprio C'è veramente Ti rubi la sua Vai Fassala Bello 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 kagashuka Cheeee Oh, madassia Oh, manglia Đuo 1 All'18 unesimo Incredibile C'è lunga Stefano kagashuka marco città porco io cacaua per l'auto e maria di fermata un imparbo per il barbo ma che fermi il porto non è da un parare da diciamo cazzo e' un buro che è affortunato stanno a pezzi stanno dai ma no c'è l'idea di questo non è curoso tutto il cacquadri che porco 2 no porco cani da vero tutti e per entrappi il ruolo dopo no no e poi papa fangulo dei barbo e chi cazzo sei fangulo il barbo del merda o c'è pensa pensa quanto fa schifo a dove ti parlo che vince diciamo che la cosa qua boom tracollo tracollo chi è questo al cavo bulliz perchè davvero comunque c'è dopo il 2 a 1 all'ottantacinquesimo c'è stato il tracollo 5 a 2 vai così No Che cazzo Cioè si è infortunato per fare il passaggio Boom 5-3 Eh cazzo Mo se ne vada 119esimo Finita Si sono rotti tutti Dai Ups Comunque ragazzi Di Aralima non riusciremo mai a vincere una partita No Ragazzi abbiamo intenzione di fare un'altra squadra Simile a questa Io direi 5 stelle skill No consigliateci qua sotto una squadra Che c'è tipo diarrea Che cazzo ne so Tutti alti Tutti bassi Più scarsi Cioè i più forti noi Non ce li mi sono Però comunque Consigliateci una squadra che possiamo fare qua sotto E ve la facciamo giocare Sempre Come abbiamo fatto con il diarrea team Noi ci vediamo al prossimo video Se vi è piaciuto lasciate un like In descrizione ci sono i nostri Instagram, Facebook E tutti i nostri social Bella Ciao 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 Ciao